Una mostra alla loggia della Gran Guardia per celebrare i 10 anni di Teatrando, un progetto promosso dal Vicariato di Este che nel corso di questi anni ha avvicinato centinaia di ragazzi al teatro. Le scuole che hanno partecipato a questa iniziativa sono tantissime, sia a Padova che in tutta la regione. Supportati da insegnanti e da registri professionisti, gli studenti hanno potuto calcare i teatri e sperimentare in prima persona l'esperienza artistica del teatro. Possono lavorare su tematiche di carattere sociale, possono lavorare su testi che afferiscono al mondo del teatro italiano e europeo, per cui ecco Molière, ecco Shakespeare, Goldoni e veramente lavorano con la logica dello work in progress, non memorizzano testi preconfezionati ma a stretto contatto con il regista realizzano lavori di indubbia qualità che veicolano input di carattere educativo. Teatrando è un'opportunità per i giovani attori ma anche per i loro compagni di scuola coinvolti dopo gli spettacoli in una sorta di teatroforum. Spettatori, studenti, quindi la specificità di questo progetto Teatrando è che vede studenti nella duplice veste di spettatori e attori, questo al fine di innescare un sano meccanismo di emulazione, un processo di identificazione per incentivare l'interesse dei giovani verso questa forma d'arte. Dallo scorso anno i ragazzi e le scuole di Teatrando hanno iniziato anche ad entrare nelle carceri Giudecca, Due Palazzi, Minorile di Treviso e di Bologna. Ad ottobre, inoltre, saranno a Rebibbia, a Roma. Perché l'anno prossimo chiusa questa splendida mostra non una notte bianca dei laboratori teatrali scolastici in Piazza dei Signori.